Ciao ragazzi, ben ritrovati, prepartita di Inter-Salernitana. Oggi non vedevo l'ora di fare questa repartita, anche perché finalmente l'Inter, dati gli impegni, cambierà qualcosa della formazione iniziale e quindi c'è un po' di colore, ecco, diverso dal solito. Comunque, prima di arrivare alla prepartita, incaselliamo un po' sta partita, perché ci sono due ostacoli, quali sono? Sono più mentali che altro, comunque l'Inter sappiamo che è superiore, ci mancherebbe altro, però mentalmente, ecco, la Salernitana avrà un boost di motivazione, perché hanno appena cambiato il tecnico, quindi questa cosa sapete che ogni tanto dà quella spinta. E poi l'Inter invece ha la Champions fra pochi giorni, quindi, al contrario, inconsciamente, a volte queste cose comportano un po' di distrazione, un po' di, così, testa ai prossimi giorni invece che alla partita stessa, eccetera. Ovviamente, devo dire che quest'anno l'Inter mi sembra matura, consapevole e non è caduta molto in questo tranello, ecco, quindi mi aspetto che possa andare in campo facendo la partita e portando a casa i tre punti. Però, insomma, vale sempre la pena di avere alte le antenne e non perdere punti per strada, anche se la Juventus ci ha fatto un assist la scorsa partita perché ha perso contro l'Udinese, però bisogna continuare noi a fare punti, anche per mettere ancora più pressione e scoraggiare gli inseguitori, così che poi magari possono perdere altri punti anche loro e siamo ancora più tranquilli. Detto questo, ringrazio brevemente qualcuno di voi per i super grazie degli ultimi video, cito Gior Mungandr, Stefano Devecchi e Aram Mossacantaro. Ora, andrei alla Salernitana, vedete che c'è la formazione dell'Inter, adesso ci arrivo. La Salernitana, ragazzi, ecco, non farò un'analisi tattica a questo giro sull'avversario, come vi ho abituati ultimamente con la lavagna tattica, eccetera, anche perché hanno appena cambiato tecnico, hanno preso Liverani. È inutile fare l'analisi tattica perché tendenzialmente gioca con il 4-3-1-2, quindi col 4-4-2 a rombo, però è anche vero che magari squadra nuova, magari devo un po' vedere i giocatori e non so, c'è difficile capire come può interpretare il modulo, come giocheranno. Io penso che, essendo la prima partita, più che altro chiederà ai vari giocatori cose semplici e soprattutto di dare tutto sul campo, quindi di sacrificarsi molto, di spendere molte energie, di non mollare, di stare concentrati, eccetera, eccetera. Quando un allenatore è lì da pochi giorni, è difficile che possa avere già un canovaccio tattico estremamente strutturato, quindi inutile parlarne. Vedremo come giocherà, bisogna essere capaci di leggere, casomai, la gara in corso, capire in corso d'opera cosa chiede, come si muove e prendere le contromisure. Insomma, non è il nostro punto forte questo, però insomma bisogna fare questo, questo giro. Ecco, chiaro, se giocano con il 4-3-1-2, che è il modulo, in teoria, insomma, di Liverani, e penso che giocheranno così, ma vedremo, bisogna essere anche pronti a sorprese. Se giocano così, dovremmo sfondare sulle fasce, perché noi, il nostro modulo, soprattutto considerando che il 3-5-2, come lo usiamo noi, con i braccetti che accompagnano, che spingono, che si inseriscono, eccetera, di fatto ha molta più ampiezza rispetto al 4-3-1-2, dovremmo riuscire a bucare, dovremmo riuscire a spingere più lateralmente, in ampiezza, che in centro del campo, dove hanno superiorità numerica. Dovremmo riuscire anche a mettere dei cross, francamente, arrivare magari sul fondo, in maniera diversa se ci arriviamo, però, insomma, sia a destra che a sinistra, dovremmo riuscire a mettere dei palloni dentro. Ripeto, possiamo spingere con i braccetti, perché loro con il 4-3-1-2 sicuramente possono fare un pressing, ma difensivo, diciamo così. C'è sempre un giocatore nella nostra costruzione che di fatto rimane libero, perché noi impostiamo a 3-1, a cui si aggiunge a volte anche un doppio play oppure un esterno, quindi comunque siamo in superiorità nella costruzione rispetto a loro, e non penso che a San Siro arrivino e pressano proprio dentro l'area nostra di rigore, a tutto campo, portando su anche il mediano, sul nostro mediano, per mettere il loro trequartista sul nostro centrale difensivo. Dubito, quindi avremo sicuramente un uomo in più in costruzione, e questo ci permette di costruire e di spingere, di portare su un terzo, il terzo uomo, ecco, che sia il braccetto, che sia l'altro braccetto, insomma, portare su un giocatore per sostenere la manovra, soprattutto di lato, ecco. Bene, bene, se davanti, proprio per quello che ho appena spiegato, bene, se magari partiamo con, come vedete, la formazione con Turam e Arnautovic, o comunque con due punti di peso, quindi non magari con Sanchez, perché se arriviamo sul fondo è chiaro che metti i palloni dentro e hai bisogno di presenza dentro l'area, e questo è poco sicuro, quindi sto leggendo che Inzaghi starebbe provando Arnautovic, beh, non sarebbe male, ecco. Forse domani può anche dire anche la sua, anche se, ci arriviamo anche lì, la serenità non è semplice a livello difensivo, a livello di fisicità, però, certo, che se giochi con palla sul fondo, crossi in mezzo, avere un po' di presenza non guasta. Cosa importante, proprio perché probabilmente giocherà anche Doomfries, forse Carlos Augusto dall'inizio, forse Bissek, vedremo, dobbiamo anche cercare di sfruttare i calci nativi, quindi i calci piazzati, visto che abbiamo comunque i centimetri in campo, e la serenità magari cercherà di difendersi, di spendere molte energie, proprio perché ha cambiato tecnico, eccetera, magari fa una difesa molto molto aggressiva, sfruttiamo anche i calci piazzati, cerchiamo di sbloccare l'incontro in modo tale che poi possa andare un po' liscio, ecco, quindi anche quello possiamo sfruttarlo, e proprio per questo insisto con il fatto di inserire dall'inizio o Cialanoglu o Di Marco, uno dei due, cerchiamo di avercelo dall'inizio perché sono importanti queste fasi qua. È vero, si può fare turnover, però sì, insomma, cerchiamo di non fare turnover totale, ecco, non c'è bisogno di fare turnover totale, si può tranquillamente fare un turnover ragionato, capendo chi mettere e chi non mettere, magari un turnover parziale, ecco, quindi secondo me è assolutamente safe come situazione, nel senso che si può tranquillamente mettere dentro Cialanoglu, fare un cambio magari in un altro ruolo, eccetera, eccetera, e poi magari nel secondo tempo cambi, no, e fai, metti dentro gli altri, quindi l'importante è la gestione in generale, non è per forza che bisogna mettere tutte le riserve, tutte in campo di botto, ecco, anche perché poi, soliti problemi, magari non abbiamo quella affinità, non abbiamo quell'automatismo, ma anche quella sincronia, e poi magari ti complichi pure la partita e c'è bisogno di buttare dentro tutti quanti i titolari nel secondo tempo, però non per fare la partita tranquilla, ma per dover recuperare o dover spingere come di dannati, rischiare giocate, rischiare falli, rischiare scontri, infortuni, eccetera, quindi facciamo le cose in maniera ragionata. Io partirei con Klassen dall'inizio, so che magari qualcuno vorrebbe vedere più Frattesi, ma Frattesi viene da un piccolo indolenzimento, un piccolo infortunio, e a parte quello c'è il discorso che, ho sempre detto, Klassen secondo me è più un giocatore da partenza, dall'inizio, mentre Frattesi si esalta più dopo quando la partita perde un po' di carattere tattico, e si va un po' più sugli spazi, sulla gamba, sull'intensità, sull'intuito, ecco, Frattesi è forte negli ultimi 30 minuti più che altro. Klassen è più un giocatore di manovra, di costruzione, io partirei con lui facendo riposare Mkhitaryan, ecco, uno al centrocampio bisogna farlo riposare, se giochiamo con Cernano Clubarella, allora almeno l'altro lo rifacciamo riposare per il prossimo impegno. Detto che Klassen comunque è un giocatore non giovane, quindi che ha esperienza, che se lo integri un pochino di più, secondo me può anche darti un po' di aiuto. Oltre a questo c'è anche un discorso tattico su Klassen, cioè loro con il 4-3-1-2 probabilmente li metteranno in pressione su Cernanoglu, credo che andreva, penso che andreva, e quindi magari servirà anche avere un doppio play, dato che hanno anche superiorità numerica centrocampo, perché hanno quattro giocatori, no? Un mediano, due interni e un trequartista, noi abbiamo tre giocatori, quindi avere un doppio play che si muove, che aiuta un po' la costruzione, che si abbassa potrebbe anche essere una cosa sensata domani, ecco perché Klassen dall'inizio più che frattesi. Andiamo un attimo alla Serenitana, ragazzi, perché prima ho detto che bene avere centi metri davanti, però comunque è difficile perché la Serenitana ha dei difensori centrali, ha una difesa in generale molto molto fisica. I due centrali sono molto esperti, parliamo di Manolas, vecchia conoscenza del campionato italiano, comunque da sempre, insomma, e poi hanno Jérôme Boateng, comunque giocatore esperto, molto esperto e molto fisico, e quindi insomma hanno giocatori comunque molto strutturati. Oltre a questo, anzi, l'unica cosa che potrebbero soffrire, però in questo senso qui, è forse la velocità di Turam. Non tanto Manolas, che è un giocatore che ha abbastanza gamba, ma più forse Boateng. Quindi spero che Turam possa giocare sul centrale lento, ecco, non su quello veloce, perché sarebbe un po' stupido. Questa è l'unica cosa che posso dire. Invece, per quanto riguarda i due esterni loro, cioè i due terzini, hanno Zanoli e Sambia, che sono molto forti fisicamente. Zanoli 1,88 m, Sambia 1,80 m, ma comunque è forte fisicamente, è un giocatore abbastanza fisico, aggressivo, quindi non è facile, diciamo così, vincere contro di loro sui duelli aerei, anche se portiamo giocatori in area. Bisogna arrivarci, però, e vincere i duelli contro questi due giocatori in maniera diversa. Per esempio, il punto debole di Zanoli è la lettura difensiva. Un giocatore che a me piace molto, molto giovane, a fisico, può fare anche il quinto, a destra, un giocatore molto veloce. Per certi versi potremmo ricordare un po' un Bellanova, per noi dell'Inter, che conosciamo un giocatore simile, giovane, eccetera. Quindi magari pecca un pochino la lettura difensiva. E quindi bisogna cercare di vincere a sinistra, nella nostra sinistra, con il sovraccarico. Quindi con Klasen, con Ancarlos Augusto, con Turam, con Bastoni che sale. Mettere in difficoltà la fascia sinistra si può dal punto di vista tattico, più che superare uno contro uno il giocatore. Perché superare Zanoli in velocità non è che sia proprio semplice, anche per Klasen Augusto. O anche fisicamente. Quindi cerchiamo di giocare più tatticamente a sinistra, con triangoli, sovrapposizioni, eccetera, eccetera. Mentre a destra, Zanoli è un giocatore fisico, sicuramente anche a livello di gioco aereo. Non dico che equivalga a Dumfries, però insomma è abbastanza tosto. Però ha meno gamba di Dumfries. Quindi sulla destra invece possiamo giocare un pochino più sulla dinamicità. Sul gioco nello spazio, con Barella, con Dumfries, magari con la palla sulla corsa, si può anche fare qualcosa. Spero che Dumfries possa puntare l'uomo, ecco, qualche volta. Se siamo molto offensivi, siamo molto spesso nel centrocampo della Salernitana. Poi chiaramente, se giochiamo con Bissek dietro, sappiamo che Bissek può anche sovrapporsi, può anche spingere, sappiamo che ha delle qualità importanti. E infatti, anzi, mi dispiace tantissimo che Bissek non abbia più giocato da quando era entrato Pavard, sappiamo che è un giocatore fortissimo, perché era in un momento molto positivo, di grandissima fiducia, grande crescita, e sappiamo che i giovanissimi godono molto di queste situazioni qua. Quindi, se avesse giocato sopra, diciamo, Bissek, no? Se avesse giocato sopra quel momento, avesse continuato a giocare sopra quel momento positivo, secondo me, poteva avere veramente un grandissimo esploat, una grande esplosione, un grande miglioramento, ecco. Invece si è bloccato quel momento, e questo è un po' un peccato, perché poi riparti un po' da zero e hai di nuovo un po' le pressioni, diciamo che abbiamo il ricordo di grandi aspettative su Bissek, e quindi ci aspettiamo che continui quel grande momento. Però non è che sia così scontato a livello proprio mentale. Quindi, vabbè, mi dispiace molto, ecco. E questo è un motivo per cui tante volte ho spinto per vederlo, magari quando mancava anche Doomfries, vederlo anche, non solo come braccetto, dove c'è la Pavard, inamovibile, ma anche come quinto. Era un modo per dargli un po' di continuità, dargli un po' di fiducia ancora, un po' di... un modo di fargli... di farlo rimanere in momento positivo, in fiducia, dandogli minuti, in modo tale che potesse mantenere quel livello là, anche magari in un altro ruolo, cosa che secondo me comunque Bissek potenzialmente può fare. Detto questo, ecco, una cosa importante, un punto debole invece di Sambia, sulla loro sinistra, è che è scarso tecnicamente, cioè tutto sommato. Quindi spero che Doomfries possa pressarlo e metterlo in difficoltà, perché potremmo recuperare qualche pallone da quella... in quella zona là, sulla nostra destra, diciamo così, sulla loro sinistra. Concludendo, più che cose tattiche, a parte quello che ho detto, in questa partita qua bisogna stare molto attenti alla gestione delle energie, anche dal punto di vista strategico per la prossima partita, che ovviamente è importantissima contro l'Atletico, e visto che hanno anche qualche infortunio, eccetera, bisogna sfruttare la partita in casa per mettere subito un punteggio insomma positivo, no? Così all'andata. E quindi bisogna fare una grande partita. Detto questo, quindi grande gestione delle energie. Turam deve iniziare, ma va tolto a un certo punto, o per Lautaro o per Sanchez in base al punteggio che c'è della partita nel secondo tempo. Di Marco può entrare per bastoni, non tanto per giocare come terzo, ma magari per giocare come quinto, facendo scalare indietro Carlos Augusto, che comunque ha grande resistenza e lo stiamo usando tutta sommata in maniera un po' contingentata, ecco, quindi Carlos Augusto può farmi tranquillamente i 90 minuti, secondo me. Poi abbiamo Frattesi, che mi aspetto possa entrare per Barella, visto che poi porta gamba, fisicità, eccetera, e soprattutto nel secondo tempo è un giocatore che porta incisività, ecco. E poi mi aspetto Aslani per Cialanoglu, assolutamente, e Buchanan per Dunfries. Vorrei vedere Buchanan se ci fosse la possibilità qualche minuto in campo, perché è un modo anche lì per integrarlo un po', perché poi se magari ti servirà più avanti ha giocato zero minuti, insomma, si fa un po' fatica. Ed è anche un modo per gestire Dunfries per non fargli fare subito di botto 90 minuti pieni dopo tanti settimane di poco minutaggio. Questo è tutto, ragazzi, vi saluto, ditemi quello che pensate voi su questa partita e sulla gestione, sulla formazione, sulle cose che ho detto. Ci vediamo domani dopo la partita con i soliti video, insomma, sia post partita che la live. Ragazzi, vi saluto, forza Inter, mi raccomando, non sottovalutiamo questa partita e facciamo le scelte giuste, sia a livello gestionale, sia a livello tattico. Mi raccomando, a presto.